Il tema di oggi sarà la riforma, dall'ITIS Cannizzaro al sistema scolastico italiano, per cercare di capire meglio quanto verrà cambiata la scuola italiana e quali modifiche verranno apportate ai nostri indirizzi di studio. Dopo la sigla, la puntata si svolgerà in questo modo, il quiz Chi vuole essere pacifista, che come ogni puntata prevede un confronto tra un alunno e un professore. Si dice che Cannizzaro darà voce alle domande e alle perplessità di studenti e insegnanti riguardo l'argomento in esame. In seguito si terrà l'intervista doppia, svolta tra i due rappresentanti di istituto. Alla fine della proiezione avrà luogo The Other Side, il cuore della trasmissione, un approfondimento che cercherà di far luce sui dubbi con un dibattito aperto tenuto in studio. Novità di questa puntata, ci sarà lo spazio dedicato ai servizi di CTV, dove verranno proiettate immagini e condensate dei servizi che abbiamo girato. Al termine della puntata, come ormai con Settugne, si terrà un breve concerto live. Grazie per l'attenzione e buona visione. Grazie. 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 Grazie.